Andiamo adesso a introdurre un altro problema ancora L'altro problema è questo qui, una definizione anche questa molto importante Prendiamo una matrice reale Supponiamo che esista Se esiste un V diverso dal vettore numero E un lambda appartenente a R Tale che Av sia uguale a lambda V Allora V lambda si dice autovallore di A V si dice autovettore Via relativo Alla Più in generale Questa cosa si può fare anche in C Cioè I numeri reali sono anche numeri complessi Quindi io potrei anche Prendere questo in C Questo in C a line Il campo è o R Allora Osservazione Proposizione Lambda è un autovallore E adesso le matrici le vediamo le A Anche se gli autovallori vedremo Possono anche essere complessi L'autovallore di A Se solo se il determinante di A meno lambda I È uguale a 0 La dimostrazione è banale Ma scrivo qua Ma scrivo qua Perché entro in una linea Allora Se lambda Lambda L'autovallore Di A Se solo se Esiste un V Diverso al vettore di nulla C A V V uguale lambda V Ma questo lo posso scrivere come A meno lambda I Applicato a V U uguale a vettore di nulla Ma questo quando è che è possibile? Applicate lo scelcamenti Questo È un vettore di C a line Non nulla Questa è una matrice Di C alla N C alla N per N Questa è R N per N Questo qua però Lambda può essere anche con questo Cosa succede? Questo Che cos'è? Non è un sistema omogeneo Un Non l'abbiamo fatto con le equazioni Lineari su R Ma vale più su C La stessa cosa Non c'è capito Quindi È un sistema di N equazioni In N incognite Com'è? Omo? Omogeneo Perché il termine noto è Sono tutti 0 Allora Quando è? Cosa dice Riusci a capire? Se questo determinante è diverso da 0 Vuol dire che questa matrice è di rango Massimo Allora se il rango è N Quali sono le soluzioni? Solo la soluzione è nulla Ma se questo è un altro vettore Vuol dire che non è il vettore nullo E allora che vuol dire che c'è una soluzione non nulla E quindi il determinante deve fare 0 Viceversa se il determinante fa 0 C'è una soluzione non nulla Per uscire il sempre per uscire il capito Quindi qua Allora se è solo se Vedemi anche di A meno lambda I È uguale a 0 Fino a dimostrazione Quindi Perché io ho dovuto mettere di mezzo i vettori complessi? Perché prendiamo questa matrice 2x2 Allora vediamo questa matrice 2x2 Allora Sempre 0 1 Meno 1 0 Questa è la matrice A Proviamo a risolvere L'equazione A v E' uguale a lambda v Allora cosa mi succede qua? Abbiamo 0 1 Meno 1 0 1 V2 Potrebbe essere uguale a lambda 1 Allora cosa scopro? Che v2 Deve essere uguale a lambda v1 Che Meno v1 Deve essere uguale a lambda 2 Quindi viene v2 Uguale Uguale Meno a lambda 4 V2 Possibile? Se lambda È reale? No Ma se lambda vale I Sì Quindi Proviamo a vedere Se lambda è uguale a I La mettiamo 1 uguale a 1 Per esempio V2 Quanto mi viene? I I per I Fa meno 1 Si trova? Allora 0 1 Meno 1 0 Che moltiplica 1 I Questo qua Fa I Meno 1 Che è uguale a I Volte 1 I Come vedete Questo perché? Andiamo a vedere Chi sono gli autovalori Di questa matrice? Allora La proposizione Che abbiamo dimostrato Poc'anzi Ci dice Il lambda È autovalore di A Stesso lo senti Determinati di A Meno lambda I Fa 0 Determinati di A Meno lambda I In questo caso Di E È Meno lambda 1 Meno 1 Meno lambda Determinati Quanto viene? Quanto viene? Quando viene? Lambda al quadrato? Più 1 Più 1 E lambda al quadrato Più 1 Iguale a 0 Se è solo 3 Lambda uguale a Lambda uguale Più o meno I Quando la radice Esce I E meno I Quindi può succedere Che anche una matrice reale Gli autovalori Quando arrivate a fare Vengono fuori Co Complessi Se la matrice è reale Se c'è un altro Valore complesso Deve avere Siccome l'equazione Determinante è reale Questo In generale Pi A Di lambda Iguale a Determinante Di A Meno lambda I Ha un nome Si chiama Polinomio caratteristico Polinomio caratteristico L'equazione Determinante Di A Meno lambda I Uguale a 0 Si chiama Equazione caratteristica Chi sono le soluzioni Di queste equazioni Sono Oh Questo qua Di che grado Deve essere Polinomio Eh Che grado Secondo voi Che grado Questo Voi ce l'avate Ricordate Quando abbiamo fatto Ieri Abbiamo fatto un po' Poi faremo altri Esercizi Sui sistemi lineari No Se io C'ho una matrice Ecco A ogni colonna Ci metto Roba con lambda Alla fine Cresce fuori Se lambda Le mettevo su due colonne Mi usciva un po' Di grado 2 Se le mettevo su tre colonne Mi usciva di grado 3 Qua su quattro colonne Sta 2 Quindi Sono Di grado 2 Se la matrice È 2 per 2 Altrimenti 3 N Perché ce ne sta uno Per ogni colonna E quindi Che grado Di grado Di grado Di grado N Di grado Di grado Di grado N E' uguale a 0 Quante soluzioni Trovo N Ogni volta Che ne trovo una Abbasso i protossini E la porto pure Che può succedere Alla peggio Sono tutti uguali Cioè posso avere Soluzioni multiple Però Posso avere soluzioni Anche complesse Anche se Il polinomio È reale Ma Se il polinomio È reale È uguale a 0 Se ci sta una soluzione Ci deve stare anche La coniugata L'abbiamo visto Quando abbiamo fatto L'integrale Quindi per esempio Se hai un polinomio Di grado 5 Che può avere 5 soluzioni reali Distinte o meno Oppure Che ne so 3 reali E 2 Che sono Una complessa E una complessa Coniugata Cioè 2 Complesse non reali Coniugate da di loro Oppure Una reale E 4 A 2 A 2 Coniugate Complesse non reali Poi queste due soluzioni Complesse E le due coniugate Possono coincidere Oppure no Però È chiaro Esattamente La stessa situazione Benissimo Quindi gli autovalori Quanti sono N A fatto che ciascuno Sia contato Con la sua molteplicità Poi Se la matrice è reale Se c'è un autovalore complesso C'è anche un autovalore Coniugato Ovviamente Se l'autovalore è complesso Allora se l'autovalore è reale Applichi l'uscia e capelli E un autovalore Lo trovi A componenti reali Ma se l'autovalore è complesso Quando fai A v uguale Lambda v Per trovare la soluzione Le coordinate di v Devono venire per forza Complesse Perché se la matrice è reale V è reale A per v È reale E allora Lambda v Deve essere Lambda deve essere Forza reale Quindi Abbiamo dovuto mettere di mezzo I vettori complessi Per qual motivo? Perché anche se la matrice è reale Nel caso in cui Gli autovalori Sono complessi Non reali Necessariamente L'auto vettore Non lo possiamo trovare In Rn Ma lo dobbiamo andare a cercare In C alla n Solo per qui Va bene? Fino a qua? Ok Adesso cerchiamo di capire Prima di cercare L'importanza di questo discorso E del perché si devono trovare Gli autovalori Gli auto vettori In genere Il problema della ricerca Gli autovalori E degli auto vettori È un problema Importantissimo Fondamentale Per le matrice quadrate È uno dei problemi fondamentali Dell'algebra lineare Poi però Perché lo capiamo meglio domani? Non lo voglio Discutere oggi Oggi invece Voglio discutere Come è fatto Questo poliano Caratteristico Andiamo a prendere Prima una matrice Di 2.2 Stavolta non ce la prendiamo Così particolare Prendiamo una Sempre con degli esempi Ma un po' più generica Un po' più generica Andiamo a vedere come fa Prendiamo un po' più generica Un po' più generica Allora Un po' più generica Allora, prendiamo ad esempio A uguale 1, 3, 2, meno 1. Allora, facciamo A meno lambda I. Chi è? E' 1 meno lambda, 3, 2, meno 1 meno lambda. Cioè dobbiamo togliere lambda solo sugli elementi della diagonale principale. Andiamo a fare il determinante di A meno lambda I. Questo è il polinomio, che è, allora devo fare lambda meno 1 per lambda più 1 meno 6. Qua, questo è un trucchetto molto semplice con le matrici 2 per 2, siccome dovete fare il prodotto di due elementi, dovete fare AB meno AD meno BC. Allora, invece di fare A per D faccio meno A per meno D, perché faccio meno A per meno D così lambda meno 1 che è lambda più 1. Tanto ho cambiato due volte segno, ho cambiato. Quindi questo è lambda quadro meno 7, ok? Allora, questo qua lo possiamo scrivere come A con 0 per lambda quadro più A con 1 per lambda più A con 2 e 1. Quanto fanno A con 0 con 2 con 1? A con 0 fa 1. Questo fa? E questo fa? Meno 6. Ora, questi numeri non sono casuali. Allora, questo fa sempre 1. In generale, però, fa meno 1 alla N. Qua fa 1 perché N è uguale a 2. Questo qua non è altro che la Allora, vediamo un po'. Se ci mettevo 2 Questa è la traccia di A E questo è il determinante di A Allora, Per capire chi è questo traccia Lo rifaccio la stessa cosa con le lettere A B C D Qua ci metto meno A e qua ci metto meno A Devo fare il determinante Allora, questo qua non è altro che lambda meno A Se lambda meno D Se lambda meno D Meno B Quindi questo qua viene Lambda qua Meno A più D Per lambda Quindi questo è meno Allora, ce l'abbiamo Poi, qua mi viene Più A D Meno D E meno A per meno D Non più A D Allora, guardate Va bene N è uguale a 1 Quindi qua è facile Lasciamo scritto Allora, vedete? Qua è venuto sempre uno Qua viene Non è venuto sempre uno Viene sempre uno Perché apri i C D sono genetici Qua che cosa c'è? Cosa sono A e D? Sono gli elementi che stanno lungo la di A Allora, la somma Degli elementi Della diagonale Della matrice Si chiama traccia Quindi la traccia di A Non è A Perché la somma E lì che vada 1 a N Per definizione A Quindi A1,1 Più A2,2 Più A3,3 Più A N Quindi Qua mi viene sempre uno Poi qua c'è un meno La traccia di A Per lambda Più il termine di A Più A3,5 Più A2,2 Aggiung Therapia Bisogna fino a qua! Adesso prendiamo un'altra matrice, 2x2, immerdibile e ce la immerdiamo. Allora prendiamo per esempio B uguale a 1, 2, 1, 3. Quando fai terminato questa matrice? 1, 2, 1. Andiamo a fare la matrice in mezzo, come non la dobbiamo fare? Io dico che è sempre conveniente farlo con meglio il più 1. Allora andiamo, qua c'ho 1, 1, qua ti metto la matrice identica. Allora qua faccio questa meno il doppio della prima, quindi qua mi viene 0, 1. Allora qua c'è 1, 0, qua mi viene meno 2, 1. E quando partiamo la matrice identica, tolgo dalla seconda rica il doppio della prima. Adesso, se qua voglio far uscire 1, 0, 1, 0, devo togliere a questo e devo togliere questa. Quindi qua mi viene 3, 1, meno 2. Allora io dico che B a meno 1 è uguale a 3, 1, meno 2. Provate, fate il produttore io per il colombo. Devo 3 meno 1, che devo togliere a quella di sopra. Devo togliere quella di sopra. Quindi 1 meno meno 2 fa 3, 0 meno 1 fa meno 1. 3, quando faccio il prodotto rica per il colombo, 3 per 1 fa 3, meno 2 fa 1, poi 3 meno 3 fa 0, meno 2 più 2 fa 0, meno 2 più 0. L'ho presa con il determinante 1 per non scrivere le frazioni. se la mettevo con il determinante 5, l'inverso mi viene un quinto di qualcosa. Se vi ricordate, no? Adesso andiamo a fare questo prodotto qua. Proviamo a fare B a meno 1 a B, dove A è quella là sopra. Quindi cosa devo fare? 3, meno 1, meno 2, 1. moltiplicato 1, 3, 2, meno 1, moltiplicato 1, 2, 3. Questo è B a meno 1, questo è A e questo è B. Allora facciamo prima questo prodotto qua, qua mi viene 1, 9 più 1 fa 10, meno 2 più 2 fa 0, meno 3 meno 1 fa meno 4. 1, 1, 2, 3. uguale, uguale, 1 più 20 fa 21. Allora vediamo se ho fatto bene. 1, 2, 3 meno 2 fa 1, 9 più 1 fa 10, meno 2 più 2 fa 0, meno 6, meno 1 fa meno 7. adesso andiamo a fare il prodotto, poi mi viene 21, 1 più 30 fa 31, poi mi viene meno 14, meno 21. è una bella matrice che con A non ci azzecca niente. Andiamo a fare il problema caratteristico. Allora questo meno 21 meno A. Questo è uguale a lambda meno 21, per lambda più 21, più 14 per 21. Quindi qua fa lambda quadro, meno 21 lambda più 21 lambda, se ne va, 21 per 21 fa 441, 31 per 14 fa 434. 441 col meno più 434 fa? E' uguale a come arriva. B per A per B a meno 1. A era 1, 3, 2, meno 1. B a meno 1 era 3, meno 1, meno 2. Cioè B e B a meno 1, invece di metterla, questo è B a meno 1. Cioè B e B a meno 2. Facciamo qui il prodotto, per colonna delle prime 2, 1 più 2 fa 3, 3 meno 1 fa 2, 2 più 6 fa 8, 3 meno 3 fa 0. 3 meno 1, meno 2. 3 meno 1, meno 2. Eh, 9 è solo. Meno 4 fa 5, eh? Vediamo un po'. Vediamo che qualche cosa non sbagliate. 1, 3, 2... 1, 3, 2... 1 fa 2 fa 3. 3, 2... 1 fa 2. 2 più 6 fa 8. 6 meno 3 fa 3. Vai a 3. 9 meno 4 fa 5. meno 3 più 2 fa meno 1. 24 meno 6 fa 18. E meno 8 più 3 fa meno 5. Un'altra matrice che, apparentemente, ecco un'altra, non ci azzecca niente. andiamo a fare il polino caratteristico di questa matrice. Devo fare il determinante di 5 meno lambda, meno 1, 18, meno 5, meno lambda. Quindi mi viene lambda più 5, che moltiplica lambda meno 5, più 18. Questo fa lambda 4 meno 25 più 18. 80 quanti. Allora, non sono matrici che non ci azzecca niente con lambda, perché il polino caratteristico non è cambiato. in realtà, la matrice A, questa matrice qua e quell'altra matrice là, si chiamano matrici simili, perché sono parenti. Vedremo questo fatto di avere che la matrice B e B-1, significa come cambiare base in Rn e guardare la stessa applicazione lineare una volta cambiato base. cioè, tu, che guardi una traiettoria di un fenomeno fisico, quello che ti pare, in R3, se lo fai con questa base, o se lo fai con una base che è stata girata, per esempio, si, le coordinate cambieranno, i numeri cambieranno la descrizione, ma il fenomeno fisico sembra lo stesso. poi, ve lo spiegherò meglio quando sarà un momento opportuno, però, diciamo, queste matrice sono simili. Allora, quello che possiamo dimostrare subito, e questo vale in qualunque dimensione, ed è così, colto che può entrare in questa mezza lavagna qua. Allora, la proposizione sia A appartenente a R per N per M, M appartenente a R per N per M, o determinante di M, diverso dal 2, quindi A M è invertibile. A può andare a non essere invertibile. Allora, dico che il polinomio caratteristico di A è uguale allora al polinomio della matrice M-1 a M. che cosa devo fare? Dimostrazione. La dimostrazione la faccio qua. io devo fare il determinante di M-1 a M meno lambda volte l'identità. però lo scrivo qua sotto lo scrivo qua sotto se io faccio M-1 per lambda per I per M che cosa viene? gli scalari questi sono numeri moltiplino la matrice perché moltiplino la matrice uguale quindi questo è uguale a lambda M-1 per I per M cioè è uguale a lambda I questo per questo fa M-1 questo per questo fa I quindi questo lo posso anche scrivere è come determinante di M-1 per A- lambda I per M perché questo è M-1 a M questo è M-1 lambda I M metto in evidenza M-1 a sinistra M a destra adesso applicate il binetti cosa dice il binetti? il determinante del prodotto è il prodotto dei determinanti quindi questo è il determinante M-1 per i determinanti il determinante il determinante di A è P A di lambda il problema caratteristico della matrice A per il determinante di E ma questo e questo cosa sono? sono due numeri che sono reciproci perché il determinante il determinante di M-1 è 1 fratto il determinante di M perché il determinante del prodotto che è l'identità deve fare 1 quindi questo è questo questo è uguale a 1 fratto il determinante di M che però era diverso da 0 quindi si poteva fare quasi semplice cosa rimane? il problema caratteristico di A ma questo qua chi era? questo fatemi cancellare qua sotto così non si componga nulla questo chi era? questo qua per definizione è il problema caratteristico di M-1 a M calcolato chiaro? quindi come vedete quando io passo da una matrice A ha una matrice A alla matrice M-1 a M questa matrice si dice simile ad A che succede al problema caratteristico? niente rimane uguale in particolare per esempio prendiamo nel caso il due dimensionale cosa rimangono uguali? il determinante cioè devono rimanere uguali tutti i coefficienti ma se vi ricordate i coefficienti del boiame caratteristico nel caso due dimensionale eh no questo faceva sempre una vabbè rimane uguale perchè sempre una questo faceva la traccia meno la traccia della matrice allora se non cambia vuol dire che la traccia di una matrice quando io passo una matrice simile non cambia cambia tutti i numeri della matrice ma la sommo sulla diagonale non cambia e il determinante ma non cambia allora andiamo a vedere vi ricordate A? A era questa che traccia A? 0 che determinante A? meno 6 questa che traccia A? 0 che determinante A? meno 6 questa che traccia A? 0 che determinante A? meno 6 sembrano completamente diversi appaiono completamente diversi ma in realtà sono molto profondamente pareti quindi è chiaro? è chiaro? ok quindi facciamo un periodo però ci basta però 5 minuti facciamo un periodo allora che cosa abbiamo visto oggi visto oggi per prima cosa abbiamo visto le matrici ortoconali le matrici ortoconali le matrici ortoconali sono le matrici quadrate in Rn che corrispondono a un'isometria cioè a un movimento rigido di Rn che lascia fisto l'origine isometria lineare e che cosa sono? o una rotazione oppure una un ribaltamento ok o l'uno l'altro quando è che sono una rotazione quando il determinante fa uno quando è che sono un ribaltamento quando il determinante fa meno uno come si caratterizzano queste matrici? hanno tutte le righe ortonormali oppure tutte le colonie ortonormali oppure mi conservano tutte le distanze oppure mi conservano tutti i prodotti scalari è uguale una di queste qualunque di queste condizioni implica le altre sono tutte condizioni equivalenti oppure la trasposta è uguale all'immersa questa forse è la condizione più importante perché se questa fosse una matrice ortogonale mettiamo qua invece di fare b a meno uno a b come potrei scrivere a? se la trasposta è uguale all'immersa potrei scrivere anche b trasposto a b o b meno uno a b è la stessa cosa quindi in quel caso particolare qua in generale vale anche quando la matrice non è ortogonale quello che ho detto dopo però se la matrice è ortogonale in quel caso il cambiamento di base quando andiamo a fare sarà un cambiamento di base proprio una ruota un cambiamento rigido invece io posso cambiare base in R3 posso avere come base con 1 e con 2 con 3 ma posso avere anche come base con 1 e con 1 più e con 2 con 1 più e con 2 più e con 3 allora la nuova base è tutta sorta rispetto alla prima chiaro? non è un movimento rigido quando è che cambio base con un movimento rigido? esattamente se la matrice di base è una di cambiamento di base vedremo una ruota è una isometria chiaro? ok comunque poi che cosa abbiamo fatto? abbiamo preso e abbiamo parlato di autovettori e autovalori allora cosa sono gli autovettori? gli autovettori sono quei vettori che quando ci applico A non cambiano la direzione Av 40v è importante capire questo perché ora se io cambio base se Av uguale a λv nella nuova base è uguale Av era 2v in qualunque base 2v sarà sempre il doppio di v quindi è chiaro che non possono cambiare gli autovettori quindi non è che io cambio base e cambio la tua valore Av uguale 2v non dipende dalla base ok allora per cominciare a poi vedremo domani l'importanza di questo problema comunque cosa abbiamo detto? abbiamo detto questi vettori che non cambiano la direzione quando gli applico la matice A si chiamano autovettori i λ si chiamano autovallori come si trovano autovettori e autovalori? è molto semplice gli autovallori sono le radici del poniamo caratteristico cioè prendo il poniamo caratteristico lo uguali a 0 trovo le radici e quelle sono gli autovallori gli autovettori si ottengono prendendo il sistema Av uguale λv domani lo faremo per l'autovalore quando ci metto l'autovalore invece che un valore qualunque eh invece di venirmi solo la soluzione nulla perché quello è un sistema omogeneo se ci metto Av uguale 3v per quella matrice di prima mi viene solo il vettore nulla perché l'anda non era un autovallore gli autovallori erano più o meno radici di 7 quando ci andrò a mettere per quella matice là radici di 7 domani facciamo la stessa matrice o meno radici di 7 vedremo che mi vengono due autovettori e poi una volta che mi viene un autovettore tutta la retta sono tutti autovettori ok? però che cosa abbiamo stabilito dopo che se io cambio diciamo se prendo questa matrice la moltiplico prendo un'altra matrice invertibile B se faccio B a meno 1 a B oppure B a B a meno 1 che succede? che imponiamo caratteristiche non cambia non solo nel caso 2 per 2 i coefficienti del problema caratteristiche abbiamo visto che sono 1 meno la traccia di A e il determinante di A quindi quando vado a fare B a meno 1 a B o B a b a meno 1 la traccia della nuova matrice è quella di prima e il determinante della nuova matrice è quella di B e insomma è una cosa che dovrebbe stupire un poco no? Domani continuiamo e vediamo perché è importante perché succede tutto questo